Ciao. Bentornato al programma tv di oggi con notizie come. La verità di Barbara Palombelli dietro l'abbandono di forum da parte di Rita dalla Chiesa. La storica conduttrice che è rimasta nel cuore dei telespettatori. Oggi al timone di forum c'è Barbara Palombelli. Ma nonostante la sua bravura sono in molti a rimpiangere la storica conduttrice precedente Rita dalla Chiesa. La figlia del generale Carlo Alberto dalla Chiesa, ucciso dalla mafia nel 1982, è stata il volto del programma dal 1988 al 2007, quasi 20 anni. In seguito ha condotto anche la versione pomeridiana fino all'addio definitivo avvenuto nel 2012. Nel corso della sua carriera ci sono state però altre decine di conduzioni. Alcune della quali con l'ex marito Fabrizio Frizzi. Scomparso nel 2018 e con il quale è stata sposata dal 1992 al 2002. Prima di lui è stata sposata negli anni 70 con Roberto Cirese. Dal quale ha avuto l'unica figlia Giulia. Come detto ancora oggi sono molti a rimpiangere la sua conduzione nel celebre talk giudiziario. Incapaci di farsi una ragione del suo abbandono. Ma per quale motivo è andata via dal programma? O è stata cacciata? Come qualcuno ha ipotizzato nel tempo. Il grande amore per Forum. Rita dalla Chiesa ha confessato qualche mese fa a Silvia Toffanin di non riuscire più a guardare Forum da quando non è più lei a condurlo. Se mi capita in video, cambio canale immediatamente. Non ce la faccio. È stato uno a tanti grandi amori nella vita. Nel lavoro. Il mio grande amore è stato Forum. In precedenza approfondito al Corriere. Dopo 30 anni a Mediaset quella cancellazione annunciata fu un colpo durissimo per me. Era il 2013. Intere generazioni di avvocati erano cresciute a pane e Forum. Lo share era le stelle. Molti ricorderanno la conduttrice con i due storici compagni d'avventura Fabrizio Bracconieri e Marco Senise. Un addio sofferto per tutti. Ed è per questo che da quel 2013 non riesce più a guardarlo. Ma, aggiunge, non è per la conduttrice. Anzi, chapeau a Barbara che è una grande giornalista. Ma quella è una ferita aperta per me. I veri motivi dell'addio a Forum di Rita dalla Chiesa. A sostituirela dalla Chiesa da allora Barbara Palombelli. Ma quali sono i reali motivi dietro il cambio di conduzione di Forum? E soprattutto. Chi lo ha voluto? A dare una risposta la stessa Palombelli. Anche lei nel salotto di Verissimo dove ha commentato le parole della collega. Ha dichiarato. Mi dispiace tantissimo che lei non riesca a guardarlo. Io fui chiamata di corsa quando lei accettò un'offerta alla Sette. Sì. Sono entrata a casa sua. Il fatto che mi voglia bene. Mi fa piacere. E anche io le voglio bene. Pare insomma che la dalla Chiesa abbia abbandonato per un nuovo programma sulla Sette. Che però non è mai andato in onda. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale. Per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video.